eccomi qua continuavo volentieri a leggere altri testi e altri nomi dei giovani di sanremo ma non ho fatto bene i conti e in realtà abbiamo finito qua io penso di aver dato insomma un quadro abbastanza esaustivo ieri con i big oggi con i testi dei giovani di sanremo come vedete secondo me i giovani di sanremo hanno portato dei testi interessanti tanto quanto alcuni big sono convinta che almeno due o tre persone le sentiremo nominare ancora in futuro almeno così mi auguro e che dirvi ci vediamo sicuramente tutti quanti davanti la televisione il 7 8 9 10 e 11 per il festival di sanremo ma su roberta faccani ufficial il mio channel youtube ci vediamo l'otto per commentare la prima serata del festival di sanremo ancora davvero grazie a tutti voi che mi state seguendo scrivetemi fatevi insomma fatemi le domande chiedetemi qualcosa fate i vostri commenti basta che non mi dite parolacce per il resto è tutto ok vi abbraccio vi ringrazio roberta matafaccani a disposizione per la musica italiana sempre ciao a tutti e buona giornata a presto